Possaccio per tre volte in casa. E adesso il calendario può dare una grande mano. Così pensano, senza esternare più di tanto il ragionamento sottinteso, dirigenti e giocatori del Possaccio di Serie A1 di Raffa, in vista delle prossime gare interne il 27 febbraio e domani contro Monte Gridolfo, poi per chiudere l'andata il 6 marzo contro Fossombrone e infine, dopo una breve pausa, per riaprire il girone di ritorno sabato 20 marzo davanti ai quotati avversari della Boville. La bocciofila verbanese dovrà sfruttare il fattore campo, che nelle bocce ha un altissimo valore di incidenza sul punteggio, contro i già citati Monte Gridolfo e Fossombrone, ma soprattutto nell'ultimo impegno opposta alla fortissima Boville di Marino, grande favorita non solo del girone, ma dell'intero campionato. Insieme probabilmente all'MP Filtri Caccialanza di Viscusi e dei fratelli Luraghi e alla Nova Inox Mosciano di Formicone e Patregnani, che hanno appena rinviato la loro sfida diretta nel girone 1, assai più falcidiato dal Covid rispetto al girone del Possaccio. Ma vediamo gli avversari di Monte Gridolfo. Per tutti basterà citare il vigevanese Paolo Signorini, vincitore di due mondiali, un europeo e due scudetti, giocatore di provato valore che in coppia batte insieme a Roberto Manghi e senza dimenticare il bravo Davide Paolucci. La loro classifica inganna, ricorda il DS della Quali, Sergio Tosi, hanno perso due gare interne, ma hanno anche promesso che non succederà più. Quindi non li dobbiamo sottovalutare e non lo faremo. In campo torna anche il capitano Max Schiappella, assente nell'ultima trasferta, chiusa con un pareggio per 4-4. Sarà presente sui nuovi campi di Possaccio anche il capo degli arbitri della FIB, il comasco Oscar Butti. e il protocollo blocca ancora qualsiasi presenza da parte dei tifosi e del pubblico.